Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra questa, state esagerando tutti quanti, metterò tutte le palle. Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra. Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra. Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra. Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra. Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra. Sto esagerando tutti quanti, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra, non è una guerra. L'educazione è un'educazione silenziale. La scena sta fuori, sta fuori. C'è quattro vigili che prendono a uno con la maniera. La scena è un'educazione silenziale. 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 Cicchiate. Non so cosa è successo prima, basta solamente io, da un certo punto, mi ha messo le mani addosso. Ho visto, io ho visto come sarei portato. Sei impazzito. Voi siete vigili urbani. Ho visto. Vabbè, hai esagerato Giuseppe con le parole, no? Ma tu alzi le mani, tu allora le metti le mani entro la posta. Abbiamo insolvito che questi hanno fatto il pagliaccio e pagliaccio. Non è così il pagliaccio, è che tu hai una divisa delle regole. Ma li hai stigati in maniera particolare. È stato un po' e un po'. Ma esiste. Vabbè, come fai se quello se ne scappa? Lo stava fermando che lo voleva chiedere. Non lo stava fermando, gli ha messo le mani addosso. E ti lepo. Sì. Ma è stato... Tutti e giù l'hanno fatto. Perché loro gli hanno intimato di fermarsi, di fornire i documenti e a lui se ne andrà. E allora lei sta giù. Ma le mani, sì. Le mani addosso, le mani. Il pubblico ufficiale non ha. Sono d'accordo, però... Ho capito, però... Davanti a tanta gente... No, la sceneggiata non aveva fatto. E continui a chiamarlo coglione davanti a 30... La sceneggiata è sbagliata. La sceneggiata è sbagliata. Ma veramente fuori di tutto. No. Hanno avuto troppo potere nel giro di 48 ore. Hanno avuto troppo potere da questo nuovo sindaco. Non è così. Non è così. Tanti. Tanti. Ieri sera qua, se vedevi cosa è successo con quelli che vedevano i palloncini, gli hanno detto da qua te devi andare, mo' proprio. Senza dirgli devi allontanare o ti metti lì. E se vedi quanti che quelli non sono marocchini, dirgli di Bari. Non ti capisci cosa è successo qua ieri sera. A dire le parolacce. Le facevano rite con tutti. Questo è il potere. Questo è il potere. Questo è il potere. Corriera, come fate che la cammina ci sono? La cammina too è molto buona! Sì! Le vediamo quant'è. Cosa vogliamo fare? Andrò... Vogliamo sapere. Io voglio sapere chi ci sono. Io sono allontanata prima, quando sono stata tutta occasione, sono allontanata per lei. Quando ho visto che si cominciava ad andare. Per me volessi allontanare. Per me. Qui c'era lei. Che facciamo? Quindi ce ne possiamo andare. Chi sa che sa che accettere! Io faccio un po' quella, le aline. grazie